Intervento deciso del sindaco di Agropoli Adamo Coppola in diretta su Cilento Channel in cui ha parlato di varie tematiche a partire dalle novità portate dalle ordinanze regionali. Il fatto che finalmente si possano utilizzare posti diversi per passeggiare dichiara Coppola non vuol dire che cambia il non voler tornare nel rischio pandemia perché noi già siamo stati fortunati rispetto ad altre zone e dobbiamo sfruttare questa fortuna senza fare errori. È una possibilità che viene data ma se succederà qualcosa in città saremo subito messi nel mirino e non deve succedere. Il sindaco poi interviene anche sulla questione asporto. Tante attività mi hanno telefonato con preoccupazione per l'asporto perché consente di lavorare maggiormente e di aprire più locali. Per fortuna poi si è scelto di dare fiducia. Saranno arrivate tantissime pressioni al governatore a ferma Adamo Coppola e alla fine è stato consentito di farlo con prenotazione. Oggi due importanti scelte si sono realizzate. Dunque da oggi lunedì 4 maggio inizia la fase 2 che richiede un supplemento di responsabilità da parte di tutti. Vediamo punto per punto cosa si può fare e cosa no. Cosa si può fare? Obbligo mascherine, comprare cibi e bevande da asporto, partecipare ai funerali, massimo 15 partecipanti, andare a trovare i congiunti, svolgere attività motori all'aperto, svolgere attività sportiva, corsa, jogging, dalle ore 6 alle ore 8 e 30, tornare al proprio domicilio, residenza previa comunicazione all'ASL, al comune di residenza e al medico di base, osservando un isolamento fiduciario di 14 giorni, consentita attività di manutenzione, rimessaggio e consegna imbarcazioni. Che cos'è che non si può fare? Raggiungere le seconde case, fare riunioni di famiglia o parti privati, fare sport di gruppo, andare a messa, creare assembramenti in qualsiasi luogo.